Ciao ragazzi e ragazze, in questo grigiore milanese, anche in realtà contro luce, perché voglio parlare di un argomento che mi crucia sempre di più, su cui ieri ho anche mandato un tweet e mi avete risposto entusiasti, evidentemente siete d'accordo con me. Io non riesco a capire ancora, il pretesto era perché un'azienda che viene invitata a un panel con una sua persona debba portare una presentazione, quando l'obiettivo del panel è un confronto, o una tavola rotonda, ecco. Non c'è bisogno sempre di farsi pubblicità, cioè perché non ci focalizziamo invece che cercare sempre di vendere qualcosa o di farci conoscere, farci pubblicità, facendo pubblicità, creando contenuto di valore, usando queste belle occasioni in modo più inbound. Ci fa paura? Non abbiamo valore da dare, beh allora non ha senso che esistiamo, ma siccome se l'azienda esiste, tendenzialmente esiste perché ha valore da dare, non è il caso di comunicarlo un po' meglio, puntando sul valore e non sulla comunicazione push. Io trovo certe cose di questo tipo addirittura imbarazzanti quando accadono, imbarazzanti per gli altri, soprattutto perché vedo le reazioni del pubblico e online è la stessa cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate, stop whining!